Ciao amici, sono Paolo, l'assaggiatore ufficiale di questo canale e Sara là in cucina che è il piatto che sto per presentare oggi. Ciao! Oggi Sara presenta la carbonara, che è uno dei piatti italiani più famosi al mondo. Sentite Sara in cucina? La carbonara è uno dei piatti più distrattati italiani all'estero. Panna, funghi, pollo, a me piacciono i funghi, però non è la carbonara. Di seguito un esempio della carbonara che si trova al supermercato, all'estero. In questo caso siamo in Inghilterra. Anche oggi Jack Russell è alquanto dubbioso. Ora vediamo come Sara prepara la classica carbonara italiana. Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti